E continuiamo con la resilienza. Oggi vi esterno due aforismi in linea con il periodo che viviamo. Il primo è del grande Vittorio Alfieri. Volli, fortissimamente volli. Il secondo è scritto da uno meno famoso, da un certo Enrico Giannelli, cioè io. Tell me one thing for loving the world. Cioè dimmi una cosa che ti fa amare, dimmi una cosa per amare il mondo, che scrissi nel 2003. E ho detto tutto. Ciao resilienti!